Buongiorno signori, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di trader famosi, personaggi famosi nel mondo del trading, che forse non conoscete, ma prima di iniziare, marchetta assolutamente obbligatoria, ho anche creato il logo del corso che uscirà il 24. Sì, sono aspetti strategici. Che bello! Eh, mi ha anche costato il logo, mannaggia. Esce il 24, mi trovate al Toll a spiegarlo, a parlare un pochettino. Il 24, poi ci sarà il webinar alle 18, ho cambiato orario, così, perché sono un pazzerello. Sono un po' così, un artista. Poi per il webinar magari uscirà la pagina di registrazione nel weekend, forse, credo. Eh, sarà lungo, eh, sarà lungo. Credo di averlo finito totalmente, adesso sto sistemando qualcosina, saranno tipo due ore di webinar, e parlando anche veloce, quindi ci sarà una tonnellata di cose da dire. Perché voglio, insomma, voglio spiegare un pochettino questo corso. Bando alle ciance. Mi sono interessato ai trader, soprattutto americani in generale, famosi, che tradano stagionalità, soprattutto americani, comunque stranieri, perché in Italia c'è veramente poca roba. Cioè, devo diventare famoso io, capito? Quindi, clicca like e condividi il video. Mi è venuto subito all'occhio, alla mente, perché in realtà già lo conoscevo, Kurt Sakaeda, o Kurt. Chiamatelo come vi pare. È un tizio molto, molto strano, su cui è difficile trovare in realtà tante informazioni. Se non ho capito male, si è ritirato. Non vorrei dire una cavolata. Ha iniziato tanto tempo fa, uno di quei vecchiettini, un vecchiettini del trading, e ne ho sentito parlare la prima volta, sbirciando la classifica della World Cup Trading Championship, che è l'unico campionato al mondo con denaro reale che dura un anno. Quello vinto quattro volte da Unger, quello vinto con l'11.000% dall'Harry Williams, e col 1.000% dalla figlia, che ho scoperto ora. E chi è? Sto riuscendo dal perro, ogni tanto mi ritrovo con cose che non... Vabbè. E Kurt Sakaeda, Kurt, è qua il nostro amico. Nel 2007 ha fatto il 100% col Forex? Ah, sorprendente sta roba, non l'avevo vista. Nel 2004 ha vinto sui Future con 929%, e eccolo qua. E prima nel 2000, sono 20 anni fa, col 600%, sempre sui Future. E l'avevo trovato anche nella pagina World Cup Advisor, in cui sono elencati... Comunque ci si può iscrivere all'advisor dell'ente che gestisce il campionato. Non vi sto consigliando di farlo, di iscrivervi assolutamente. Se dovete iscrivervi, vi iscrivete ai miei segnali. È un altro conto. Era qua prima, ma poi è scomparso, c'è l'Unger, c'è il Williams, c'è la Zacek, o comunque come si chiama, come si pronuncia, non lo so. E c'era anche Sakaeda, ma poi è sparito, non lo so perché, magari li turn... non lo so, li cambiano ogni tot. Allora, sono andato un po' in giro a interessarmi, e ho trovato questa intervista su bettersystemtrader.com cornering the market with Kurt Sakaeda e allora mi sono fatto mandare la trascrizione perché un'ora di podcast in inglese mi erogna veramente tanto o altro da fare. Ci metto troppo, devo risentirlo due volte per evitare di fare intendere le cose. Allora mi sono scaricato le cose e vi dico due o tre cose su Kurt Sakaeda, su come opera, sul perché usa le stagionalità e su perché è così interessante. Prima di tutto inizia da subito, tipo da dopo l'università, a lavorare in un hedge fund. Non so come ha fatto, ma non sapeva neanche far trading. E' entrato come non analista tecnico, non so a far cosa, e poi è diventato trader. Era sconfuso, tutto sconfuso, non capiva come approcciare il trading, come capita a tutti noi, come parlerò poi nei webinar. Ho ben chiara la sensazione di spaisamento, e di nebbia mentale che c'è all'inizio del trading, dell'approccio del trading. E ce l'ha avuto finché non ha scoperto le stagionalità. L'ha scoperto grazie al fatto che non è stato in casa chiuso a pensare solo e a girarsi i pollici. E' andato in giro, ha conosciuto gente, ha visto cose, ha vissuto, così ha scoperto le stagionalità. Le sono subito piaciute, in particolare per la causalità. Cioè dice, io non sto qua a tracciare grafici a caso. Visto che c'è una causalità, a me piace. Poi parla molto della stagionalità su stocks, quindi dice, non lo so, l'esempio che fa è, a dicembre, le aziende che guadagnano con Natale, con le vendite del Natale, quelle di gioielli, quelle di dolciare, e cose così, hanno il prezzo che aumenta proprio per il Natale. Io non so se è proprio una stagionalità. Cioè sì, capita d'inverno, ma in realtà poi è una questione forse un po' più di tipo analisi fondamentale pura. Non lo so. Comunque, fa tutti questi esempi che sono comunque molto interessanti. Sottolinea come la stagionalità sia particolarmente facile da tradare, non solo perché ti dà il punto di ingresso e quindi dice, in questo momento forse è meglio entrare proprio perché c'è una causalità sotto, c'è una causa, ma poi ti dice anche il punto di uscita che è una parte fondamentale ed è una delle caratteristiche che contraddistingue un trader, non dico profittevole, quanto meno professionale. I trader un po' così che vanno a caso, che hanno quei 500 euro da buttare non ci penseranno mai all'uscita. Inizia a pensarci all'uscita quando hai soldini, vuoi fare le cose per bene. poi fa degli esempi un po' strani del tipo, comunque guardi il giornale, vedi se ci sono disastri, non lo so, agricoli, uragani, siccità, eccessive piogge, roba così, allora tu puoi pensare che il prezzo delle granali aumenterà perché la produzione scenderà. sì, a me non piace particolarmente stare dietro le news, nonostante, probabilmente dovrei farlo di più, assolutamente. Qua dice che, mi fa ridere, per le parole che usa, allora dice, non c'è, la causalità è interessante perché d'estate il prezzo delle granali sale perché evidentemente non ce ne sono molti in giro. Così, questa sua spiegazione è le parole che utilizza nell'intervista visto che non ce ne è molto in giro e il prezzo sale abbiamo una causalità, cioè non è una roba a caso tipo scommessa, sì sì è vero, anche un po' più nel dettaglio potevi entrare, ma dicci i tuoi segreti Kurt. Per quanto riguarda la Coppa del Mondo ovviamente l'intervistatore di Better System Trader l'ha chiesto com'era, com'è stata, com'è l'approccio alla Coppa del Mondo, lui dice, non è una cosa normale, cioè non ha niente a che vedere col trading è un po' come guidare un'auto sportiva in corsa a 200 km orari in curva. La maggior parte delle volte esci, la volta in cui stai in pista fai una performance da record, ma questo lo sapevamo, è un campionato, ci sta. Però è stato un grande perché ha avuto delle performance abbastanza importanti, quasi il 1000%, se non sbaglio, sì, è il terzo, no, è il quarto, dopo Ralph Casazzone, è la prima volta che lo vedo, è il quarto, insomma, su 30 anni di Coppa del Mondo, non è male, bravo Kurt. E poi racconta, ah sì, dice di preferire la diversificazione anche dei capitali, quindi aprire su più broker, tenere i soldi di risparmio su più banche perché poi si falliscono a un casino e questo è un po' buonsenso. E racconta una storia carina di quando ha impallato il mercato del legname, cornering lo chiama, io non so esattamente la traduzione quali sia, letteralmente, sono ignorante in questo senso, chiedo scusa, perché praticamente, non so, è entrato in una seggionalità, andava bene, è rientrato, il giorno dopo è rientrato ancora, a un certo punto l'ha chiamato, il mercato proprio l'ha chiamato, ha detto, guarda che tu stai esagerando, i violi, i mercati regolamentati hanno dei limiti di influenza che tu puoi avere sullo scambio, ok? Si può dire in modo molto più tecnico, io non parlo in modo tecnico, quindi, capitemi, e lui fa, ah sì, beh, ne sono cinque, e sì, però i mercati, i contratti totali sui legname sono otto, e quindi sei oltre il 50%, ah, scusa, non se ne era neanche accorto, mi fa morire sta roba, e il legname effettivamente è tradato pochissimo, ed è anche una spina nel fianco perché è molto volatile, quindi ho fatto anche uno spread su legname l'anno scorso, che era andato anche bene, però è troppo difficile, troppo difficile, comunque mi ha fatto ridere questa cosa, e poi parla della correlazione tra le materie prime, perché dice, la posso misurare, nel momento in cui posso misurare, non solo la correlazione statistica, ma la correlazione fondamentale, quindi crude oil con benzina, perché la benzina viene prodotta dal crude oil, dal petrolio, allora io so più tranquillo se ho una posizione long sul petrolio e short sulla benzina, anche non in spread, anche che non si riguardano, che fanno cose diverse, sono più tranquillo perché viene o male si compensano, non è che vanno totalmente insieme, però hanno un certo legame importante, questo è da tenere a mente ragazzi, è importante, e se lo dice Kurt dovete credergli. Suggerisce questo libro che non avevo mai visto, e vi chiedo se per voi vale la pena qualcuno l'ha letto o non l'ha letto, Seasonality di Jake Bernstein, mai letto, mai visto proprio, e basta, abbiamo rassunto un pochettino il Kurt Sakaeda che è diventato ricco e famoso con le stagionalità, quindi per diventare ricchi e famosi anche voi dovete iscrivervi al mio corso o al servizio segnali, no, non è vero, però nel caso fatelo perché è una cosa saggia e interessante. Basta, non devo dire nient'altro, vi rinnovo l'appuntamento, quanti appuntamenti? Un sacco, martedì alle 20.30 con la diretta sempre più croccante, giovedì alle 16.30 al TOL e lì è proprio festa grande, parlerò un po', proverò a star dentro il tempo che Gabriele mi ha dato per parlare e proverò anche a rispondere alle vostre domande che è la parte che mi piace di più in assoluto, avete visto nelle dirette io sto un'ora a rispondere alle domande e mi piace da matti, però poi mi fermo nel senso venite perché poi parliamo in generale, quindi sono lì e basta, non devo dirvi nient'altro, è stato un piacere e ci aggiorniamo a domani, domani non c'è il video costruiamo il portafoglio low cost, fino a giovedì, venerdì parlo di stagionalità perché comunque sto lanciando il corso quindi ci sta, farò dei video a tema e poi riprendiamo da o venerdì prossimo o l'altro ancora, con capo, con capo, eh? ciao, buon giovedì e buona Pasqua.